Cosmetici pericolosi per la salute e scaduti sono stati scoperti in due negozi del centro città, uno in largo barriere e uno in zona ospedale maggiore. La polizia locale ha sequestrato quasi mille prodotti e ha denunciato due commercianti. È stato il nucleo di polizia commerciale ad avviare i controlli tra maggio e giugno in cinque esercizi commerciali, operazione che ha portato al sequestro amministrativo di 690 prodotti cosmetici scaduti e a due sequestri penali per un totale di 298 prodotti pericolosi per la salute con denuncia dei due negozianti. In particolare nel negozio in largo barriera sono stati trovati 272 prodotti cosmetici tra profumi, creme e dopo barba non idonei alla vendita in quanto contenenti una sostanza ritenuta cancerogena, si tratta del Lilial di cui la Commissione europea ha già vietato dal 2022 l'uso nei prodotti in commercio. La polizia locale invita a consultare il portale RAPEX, sistema comunitario di informazione rapida sui prodotti non alimentari che si trova sul sito del Ministero della Salute.